oh cazzo guarda guarda il leggendario comandante todo è l'ora della lettura ciò che segue una band liscia chiarificazione ah eccoti sei difficile da trovare come butta andrò subito al dunque il nostro compagno todo è prigioniero dei britanni aiutaci a salvarlo e l'esercito di liberazione giapponese si unirà alla tua causa va bene ma prima vi presento rakshata si occupa delle nostre armi come fa una latina ad essere così bella oh sei latina vero non appaio latina cosa sei esattamente se non fossi latina non sarai così feca più che latina sembri indiana ma tralasciando la razza wow scusa cos'è tuo padre si trova in casa si chiama wow o juan provo con juan juan vieni qui la tua figlia latina è qui e sta facendo una scenata ehi ritorna in messico che cazzo ci fai qui puttana togli di mezzo quel cazzo di computer guardate questa latina qui orca miseria ha in mano la sacra encigliata ma che ti prende vuoi mettere su peso tornate in messico torre 1 d'aquila 1 torre 1 d'aquila 1 mi ricevi? non ci credo tu sei grisby jones bello quell'aereo una figata comunque guarda sotto il sedile oh cazzo si auguroni ragazzone chi è la mia adorabile sorellina? ah cosa è successo? un sacco di cose domani avevo una presentazione ma c'è stato un problema riguardo l'esecuzione non posso né negare né confermare che sia un'esecuzione compilati i moduli allora lo farò per caso vuoi che io ti sostituisca? davvero? oh che amore sarà facile vai lì a pari carina sarà d'arte una fare tutto il discorso noioso un consiglio non pensare ai cazzi non pensare ai cazzi non pensare ai cazzi ehi chi vuole parlare di cazzi? scommetto che lui lo vuole forse ce l'ha anche norme scommetto che è proprio lungo scommetto che è pendola di qua e di là e inoltre scommetto che è grosso quanto una marichetta dei pompieri per la cronaca ha ragione al 100% va bene diamo inizio alla festa gente benvenuti al programma di rieducazione e ora avviamo questo powerpoint vedete qui abbiamo delle mele oddio ma guardate sono molto in alto e questi due non le raggiungono oh no ma se mettiamo le casse in questo modo ci riescono ehi mi è venuta un'idea questo tizio è proprio basso è vicino al terreno uuuuh c'è qualcos'altro guardate dei ravanelli perciò prendiamo il tizio basso e lo spostiamo a raccoglierli ehhh questo tizio invece sembra essere forzuto perciò perchè non metterlo a reggere le scatole ehhh altezza adesso questo tizio è ravanelli e questo tizio ha tutte le mede ma aspetta e si decidessero di scambiare i bagni e venderli l'un l'altro oh santa diana massimizziamo l'efficienza ehhh 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 chi vuole delle mele ehhh 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 passate una mera qui wow io invece posso avere un ravanello grisby uccidi tutti i presenti inclusi noi si nessuno uccide nessuno ehhh ehi lelous sei tu dove stai andando nana lì sei ancora cieca giusto si perchè chiedevo ehi lelous dove stai andando a far saltare ehhh la s... la scuola ok divertiti dunque è qui che sarà l'esecuzione? esatto abbiamo l'incarico di organizzare il tutto prima che arrivi cornelia va bene cominciamo secondo l'articolo 28 capitolo 1 sezione 23.3 sotto sezione 5 l'informazione dell'intelligence criminale deve essere valutata secondo i limiti gira a destra dite di girare a destra ti ripeto che non puoi girare non vedi il muro? gira a destra ma continua a dirlo ragazzi l'abbiamo pianificato nessuno va da nessuna parte se non lo dico io posso andare in bagno? oh cazzo no oh no no mi scappa ah vai pure vai e basta aspetta no oh per Diana grazie al cielo siamo qui sopra al sicuro arrivooo cazzo perché siamo sempre in luoghi sopraelevati lo senti questo odore sembra come se qualcuno stia tentando di ca... oh ma che cazzo posso usare il bagno? vieni con noi se vuoi vivere no non saprei mi piace il posto tre pasti al giorno e vino nel cesso a fiotti inoltre... ficcatelo dentro il furgone oh la testa vieto di rivederlo signore mi farebbe il favore di guardare sotto il sedile? ma sono api non le ho messe solo lì oh no oh cazzo si cazzo facciamolo cosa? ma che cazzo? non leggo le sue mosse computer si suzaku metti la velocità al massimo e ruota di 90 gradi suzaku non posso cambiare velocità rapidamente chi sarebbe il demente? fallo! diamine! fa gola cavolo quei tizi se la cavano oh cavolo sei sicuro? oh chi la sente adesso quella? signori e signori ho un annuncio il nuovo cavaliere personale della principessa è ora quel tale che appare sullo schermo oh cazzo ecco dagli il bastoncino non dargli il bastoncino! ciao!